Ciao a tutti da Vigneta. Un momento di percorso musicale, di elettronica. Oggi ho visto parecchie cose qui in Luligiana, mi sono sfermato molto il gioco di ponte e allora vorrei portare in live, in un bel parco, una situazione come questa, un live set dove tutti possano vedere, sentire quello che è il suono del futuro. Un momento di percorso musicale, in un momento di percorso musicale, in un momento di percorso di Piedra. Un momento di percorso musicale, in un momento di percorso буде più Grazie a tutti. 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 a tutti.